Che cosa accade alla libreria Feltrinelli in questa domenica che insomma ci avvicina anche al periodo natalino? Certo, questa domenica l'associazione Liria, un po' anche per farsi gli auguri di Natale, vuole ricordare Alda Merini e presentarla soprattutto alle nuove generazioni nel decennale della morte, quindi questa grande poetessa e sarà una nostra socia Martina Salvini a condurre la serata, mentre Claudia Landrini appunto farà un po' da pontiera per portare la figura e la poesia della Merini appunto nelle nuove generazioni. Una poetessa indubbiamente anche un po' problematica per la sua vita e per le sue opere, ma che sicuramente ha un grandissimo fascino e che verrà certamente apprezzata anche dai giovani ospiti che verranno. Tra l'altro una parte sarà proprio dedicata all'esplorare questo passaggio, questo ponte, di come le nuove generazioni possono interpretare in questo momento la poesia, nello specifico di Alda e in generale della poesia vera e propria, quindi quanto ancora c'è bisogno di poesia, quanto c'è ancora sete di poesia. Una delle caratteristiche proprio dell'essere umano è la poesia proprio come atto, come agire, come sentire. E Alda ci dà questa possibilità, dieci anni dalla scomparsa, di esplorare sia proprio questo passaggio che dicevamo per le nuove generazioni, sia la poesia in sé per sé con Lucrezia Lombardo che farà un intervento sullo specifico, sia appunto vedere questa vita così travagliata, dove in realtà l'arte di vivere diventa per Alda lo strumento per andare oltre la difficoltà e guardando appunto le caratteristiche della vita con il professor Claudio Santori e io, Silvia Martini, che darò la voce a queste parole straordinarie e mortali. Ricordiamo brevemente l'appuntamento che immagino sarà l'ingresso gratuito? Sì, certamente. È domenica alle ore 17.30 presso lo spazio Feltrinelli in centro d'Arezzo.